Gli abitanti di Alessandria Città e dei soborghi chiedono iniziative immediate e risolutive su problemi che sono sotto gli occhi di tutti da anni. Adesso che il programma di governo della città, presentato dal sindaco Giorgio Bonante e stato approvato dal Consiglio Comunale, si può cominciare davvero ad agire. Il primo cittadino, ospite l'altoriere della nostra trasmissione di Mezzogiorno Filo Diretto, ha illustrato quali sono i temi principali, ovvero il decoro della città, la sicurezza, la rinascita di strutture inattive da anni ma molto importanti come ad esempio le piscine, il teatro comunale e poi ancora attenzione a una maggior sicurezza con un sistema di video e sorveglianza efficiente, l'assunzione di nuovi agenti di polizia municipale e la logistica sono tutti argomenti che affronterà nei prossimi mesi. Ma al momento qualcosa che deve prendere via urgentemente davvero sono i lavori pubblici, come il rifacimento delle strade e dei marciapiedi. Per andare più speditamente però c'è bisogno che venga realizzato un patto con lo Stato, quindi con il nuovo governo, per poter gestire questo debito che pesa enormemente sulle casse comunali di Alessandria e che è già stato illustrato a suo tempo dall'assessore al bilancio e partecipato Antonella Perrone. Ma non solo, durante il programma il sindaco Bonante ha voluto precisare che è necessario un patto anche con la regione Piemonte per la realizzazione di un grande progetto che è il nuovo ospedale di Alessandria. Tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale concordano sull'obiettivo di avere un nuovo ospedale perché quello attuale non regge più sotto molti punti di vista, però il tema dell'ospedale richiama anche la relazione che abbiamo subito attivato sia con l'azienda ospedaliera che su un altro fronte, diciamo così, più di dinamica sociosanitaria e assistenziale con l'ASL sul miglioramento delle condizioni attuali perché purtroppo, se ci fermiamo per non ampliare troppo il discorso, l'ospedale è un ospedale straordinario con dei reparti veramente all'avanguardia ma ci sono alcuni segnali che vanno affrontati e stiamo cercando di farlo con il direttore, il dottor Alpe, una prospettiva da garantire per l'ottimo reparto di chirurgia, l'assoluta necessità di arrivare all'acquisto di un nuovo robot chirurgico perché quello attuale è datato e per questo noi queste richieste le abbiamo avanzate anche al Presidente della Regione, Alberto Cirio, perché riteniamo che è un buon ospedale come abbiamo che deve essere confermato, per quanto possibile anche migliorato nei problemi che ha presentato negli ultimi anni, sia una condizione fondamentale per far sì che Alessandria rimanga un punto di riferimento per un'area molto, molto vasta.